Allora presentiamo un po' questi ragazzi, vieni Giovanni, vieni qua vicino, facciamo un bel applauso, grazie ragazzi, vieni Davide, Gorda, Manal, Sofia, Dan, Dan, Jessica, Davide, Tomato, Mattia, Daniele, Valentino, e poi Marcolino, Luca, Luca, facciamo un applauso a Luca che è, dov'è? Ecco qua, perfetto, ragazzi, vieni qua, ok, bravissimi, io farei anche un nostro applauso, un nostro maestro, Giuseppe Morfe, e facciamo un bis. Non mi sono in posto, non mi sono in posto, Luca! A forza, tu dai, facciamo l'ultima... Sì, 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 sì. Sì, sì.